Rialzare la testa e tornare alla vittoria. Con questo obiettivo proseguono gli allenamenti del Brindisi sul precampo dello stadio Franco Fanuzzi. Le sedute sono incentrate sul lavoro di forza, integrate con partite a pressione. Nel prossimo weekend il campionato serverà un turno di riposo utile per recuperare gli assenti, soprattutto chi per infortunie squalifiche non ha potuto dare concretamente il proprio contributo, ma Spinelli e compagni non perdono di vista. Il prossimo obiettivo, il match con il Casarano, una gara fondamentale per tornare a macinare punti di fronte a un avversario che ha invertito la rotta allontanandosi dalle zone calde ma rimanendo allo stesso tempo ancora invischiato nella lotta per la salvezza, motivo per il quale venderà cara la pelle. Nella gara di andata furono i biancazzurri ad andare vicini alla vittoria con il rigore di Galdean che si stampò sulla traversa. Con quella conclusione andarono via le speranze di successo anche per cancellare i brutti ricordi della stagione precedente con l'incubo retrocessione che si materializzò proprio al Capozza. La classifica impone un successo considerato quanto si stia correndo nelle zone basse della classifica e con i recuperi delle altre pretendenti che fungono da spauracchio per una gradatoria che potrebbe avere ancora ulteriori scossoli.